è la settimana del salone del mobile del fuori salone della design insomma la settimana in cui milano e tutta la zona attorno celebrano la ripresa di questo mercato importantissimo per il nostro paese che ruota attorno all'arredo alla casa i mobili e non solo è un mercato che nel corso degli ultimi anni ha saputo resistere alle tante traversie che si sono succedute che anzi negli ultimi mesi ha avuto una notevole crescita soprattutto trainata da mercati esteri e in parte anche all'interno dalle misure che hanno sostenuto l'edilizia e la sua filiera larga e che ora però deve fare i conti con tutta una serie di nuovi temi a partire dal venir meno di alcuni incentivi e quindi dalla necessità di sostenere nuovamente il mercato interno ma soprattutto da queste nuove sfide che vengono dalla necessità di far fronte ai temi della sostenibilità e quindi anche usare nuovi materiali progettare in maniera diversa i componenti delle nostre abitazioni e sono sfide nelle quali le imprese artigiane sono assolutamente presenti e credo che al di là degli aspetti per così dire di intrattenimento e più ludici che accompagnano queste giornate e i vari happening che si succedono nella città per chi vorrà seguire soprattutto gli aspetti e gli incontri più di approfondimento scoprirà appunto come questo sia un settore in grande fermento e che si sta fortemente rinnovando e che smentisce ancora una volta quel taglio un po spregiativo che taluni ancora purtroppo utilizzano nel raccontare il nostro mondo è capitato la scorsa settimana purtroppo leggendo un articolo su un prestigioso giornale nazionale che raccontava di una tragedia avvenuta all'interno peraltro di un campo di golf nella vicinanza di milano e addebitandone la una delle ragioni ad una saldatura artigianale come se quindi il fatto che questo lavoro fosse stato fatto da in maniera artigianale potesse essere sinonimo di lavoro approssimativo ecco purtroppo invece così si racconta male e si utilizza in termini spregiativo un aggettivo che invece ripeto in questi giorni sta avendo fortunatamente il suo necessario e giusto riconoscimento in quanto un lavoro fatto in maniera artigianale assume sempre più una dimensione di unicità di particolarità e di alta qualità e di questa alta qualità nel settore artigianale sono stati interpreti esempi due grandi figure che purtroppo ci hanno lasciato proprio all'inizio di questa settimana e che vorremmo qui ricordare che vorremmo innanzitutto ringraziare per quello che hanno dato al nostro mondo sto parlando di cesare fumagalli che di confartigianato è stato a lungo il segretario nazionale di origini lecchese e quindi lombardo che ha guidato anche la nostra federazione regionale che all'artigianato ha dedicato la sua intera vita lavorativa e di Renato Caimi in questo caso ci piace definirlo nonostante la sua azienda poi si è diventata una grande azienda un grande campione nazionale però ci piace definirlo un grande artigiano uno della famiglia di confartigianato è stato a lungo un nostro dirigente è stato l'inventore di prodotti che sono entrati nell'uso quotidiano e che ed è stato appunto un grande esempio e maestro di quella alta qualità che all'artigianato è indissolubilmente legata